E' una delle aziende italiane più famose nel mondo e una delle più antiche. La Fratelli Branca, fondata a Milano nel 1845 da Bernardino Branca, da cinque generazioni è sempre stata guidata dalla famiglia che negli anni ha lavorato per fare del Fernet Branca uno degli amari più famosi del mondo, frutto di una combinazione top secret di erbe e radici provenienti da ogni parte del globo. Tutti d'accordo. Dopo pranzo, Fernet Branca. Ma ad oggi la ricetta di cui va più orgoglioso il conte Niccolo Branca, attuale amministratore delegato della società, è quella che regola perfettamente i delicatissimi equilibri lavorativi in azienda. Se in Branca sono state date le giuste opportunità di affermazione professionale alle donne, dice il conte Branca, non è semplicemente perché sono donne, ma perché... Sono delle professioniste, che sono delle persone molto etiche, che sono delle persone che hanno assertivismo, passione e integrità. L'insieme di queste cose è eticità. Sono tutte cose per me molto importanti, che quindi quando ritrovo in un essere vivente, al di là di quello che è la sua razza, il suo colore della pelle, la sua nazionalità, il suo credo religioso o politico, per me non sono importanti, ma sono importanti queste cose qui. E questo deve passare al di là di quello che sono le divisioni di una mente meccanicistica che ci ha condotto fino agli anni 2000. Quindi uno se esce da questa dualità, dal dualismo, non vede più le persone come separate, come divise, ma vede tutto come un unico insieme di relazioni. E questo fa sì che uno sceglie le persone per quanto esprimano e non per quanto appariscano. Nell'azienda, il cui motto è innovare serbando, innovare conservando, non c'è dunque bisogno di quote rosa. Ma, dice il Conte Branca, nel mondo in cui viviamo rappresentano forse uno stimolo necessario ad abbandonare le vecchie contraposizioni e a elaborare una coscienza generale più evoluta che vada oltre il concetto di separazione. Io mi auguro, prima o poi, che ci sia al più presto anche un Presidente del Consiglio che sia donna, un Presidente della Repubblica donna. E questo è quello che mi auguro. Anche perché la donna sta dando delle dimostrazioni di grande integrità. E poi di uomini ce ne sono sempre meno. Di uomini, come li intendo io, con la U maiuscola, di qua 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 e in mezzo uomini, come diceva Sciascia, ce ne sono tantissime. Ma la razza degli uomini veri è sempre meno. Le donne sono tenace, hanno voglia di far vedere quello che loro sono, quello che contano, quello che hanno studiato, tutto quello che hanno messo nella loro vita. Quindi credo che appunto hanno una sensibilità, hanno praticità, quindi hanno una sintesi di molti aspetti molto importanti. E quindi quando vengano integrati nel lavoro, nella passione, nell'assertivismo, nell'eticità, secondo me è un mix che poche persone possono esprimere. Nella Fratelli Branca molti posti chiave sono occupati da donne. Il responsabile legale, il responsabile marketing, il responsabile comunicazione, lo strategic planner, il responsabile controllo qualità. Abbiamo chiesto alla dottoressa Manuela Savardi di raccontarci quali siano gli ingredienti necessari a realizzare un ambiente lavorativo a prova di discriminazione. Ma io credo che prima di tutto ci voglia sicuramente costanza e tanta pazienza perché ovviamente episodi che magari possono essere contradditori, che possono creare difficoltà laddove ci sia un numero elevato di persone ovviamente possono sempre insorgere. Però quando l'azienda, come è stata appunto la mia esperienza positiva qua dentro, ha ben chiaro quali sono gli obiettivi e quindi si basa su un discorso di rispetto delle persone a prescindere diciamo dal genere, dal sesso, dal credo che può essere politico o religioso, a quel punto appunto partendo da chi è chiamato a dettare queste linee guida e quindi poi a rendere le pratiche nel quotidiano c'è una costanza nell'applicazione di questo modo di vedere, si crea un qualcosa che a mio avviso ha una forza dirompente nel tempo che è l'esempio. Quindi da dove c'è coerenza in queste forme di comportamento poi il tempo in un certo senso dà ragione. E la compresenza paritaria di figure maschili e femminili aiuta. Come spiega Marco Pellegrini, responsabile parte industriale e direttore di produzione, uomini e donne hanno spesso visioni complementari dei problemi, utili a trovare più velocemente soluzioni fattive. Sono complementari alcune visioni che servono molto oggi più che mai, dove i particolari hanno la loro e ricoprono la fondamentale importanza, ma dove soprattutto c'è bisogno di questa visione allargata, aperta, dove si considerano tutti gli aspetti, la sensibilità femminile, l'apertura verso certi aspetti di comprensione anche dei comportamenti differenti da quelli che a alcune volte la figura maschile recepisce. E sicuramente questa visione che la società branca da sempre ha, di apertura ma soprattutto di vedere un insieme che è allargato. E questo penso sia l'esperienza maggiore che ho visto completarsi con una squadra che è composta da figure oggi nella parte industriale, strano dirsi, ma è ricoperta maggiormente da figure femminili che non maschili. L'azienda dunque diventa un insieme allargato, anzi un organismo vivente, come preferisce definirla il conte Nicolo Branca, un organismo che può ammalarsi se tutte le componenti non lavorano per lo stesso obiettivo, un po' come accade nel corpo umano. Io vedo il mondo come un tutt'uno, io ho una visione olistica, io vedo un tutto, un sistema organico vivente dove ognuno di noi fa la sua parte, però nessuno di noi è scisso dall'altro. Ognuno di noi senza l'altro non può vivere, quindi siamo un tutt'uno in relazione. L'azienda funziona bene se tutto l'organismo, se tutte le cellule di questo organismo funzionano in maniera coesa, con un unico obiettivo e con appunto una voglia di raggiungerlo, questo obiettivo. Ecco come intendo io un organismo vivente, il che vuol dire anche vedere le persone come parte di te e quindi vedere anche tutte le persone, anche le persone più negative, come la tua parte negativa e quindi non scinderla e non dividerla e quindi stargli vicino e come diceva Goethe, cercare di trattare l'altro non per quello che è, ma per come dovrebbe essere. In quella maniera è più faticoso. Gli viene male alla pancia, gli viene male di fegato, ci sono tanti inconvenienti, però piano piano la persona cambia. Un organismo vivente, la Fratelli Branca, che sta affrontando la crisi con tutta la forza data da una tradizione centenaria, da un prodotto d'eccellenza e da una impostazione aziendale capace di valorizzare ogni sua componente, quella maschile come quella femminile, interpretando al meglio una sfida globale. La cosa importante di oggi è che io credo che questa crisi sia una crisi veramente non di passaggio, ma è una crisi che chi cambia realmente ce la farà. Chi non cambia purtroppo soncomberà. È quello che è successo nella storia di tutto il mondo. E io credo che le donne possono avere un'influenza fondamentale perché questo cambiamento diventi veramente una grande opportunità. per tutte quelle positività che io ritrovo nella donna e che ritrovo in questo livello di coscienza più evoluto a cui ci stiamo introducendo. La onzione è Linga Linga Ringa Linga Grazie per la visione!